Tornano prepotentemente di moda i mitici tacchi a spillo, sottili altissimi e emblema per eccellenza della femminilità. Ad assicurarlo è di Repubblica. A te piace indossare tacchi a spillo? Allora, a me piacciono i tacchi a spillo. Trovo che ci siano donne che li indossano e li portano benissimo, ma non ho il physique de roll. Sorry! E anche un consiglio a quelle donne che secondo lei non sanno portarlo, dice perché lo mettete e non mettetelo? Che dire, uno dovrebbe avere un pizzico di autocritica in tutto, fa sempre bene. Qualcuno dice che oltre a slanciare la figura aiuta anche a sentirsi un po' più sicura di sé. Lei col tacco a spillo si sente più sicura di sé oppure no? Beh, una volta che ci ho provato quasi mi trancio una gamba e quindi direi no. Parlando di centimetri, quale pensa che sia il tacco più alto che hai indossato? Otto, ma proprio... Il tacco 12 no. No. La volta io 12. Non li utilizzo di solito, se non nelle occasioni particolari. Poi a Pavia sinceramente il tacco a spillo non si può portare. Come mai? Per ovvi motivi. I sossolini a terra complicano molto la situazione. Quali sono le occasioni in cui si mettono i tacchi a spillo? Beh, per me le occasioni in cui bisogna metterli, oltre che una serata di gala, non so, matrimoni, cerimonie particolari, ma quotidianamente io non li porterei anche perché non sarei in grado. Si dice che portare il tacco a spillo aiuta a slanciare la figura, quello sì, ma anche a sentirsi più sicura di sé. A te capita o ti senti sicura anche senza il tacco? Sicuramente molto più sicura senza il tacco, però sì, è vero, slancia la figura, però non è il tacco che, diciamo, che incrementa la femminilità, non credo. Le donne che vanno a lavorare col tacco a spillo, secondo te, sul lavoro proprio, è un'esagerazione, è un modo per colpire magari qualcun altro oppure no? Dipende dal lavoro, sinceramente. Un insegnante che va col tacco a spillo non la vedo, femminile anzi, però magari in ufficio, non so, potrebbe essere azzeccato. A scuola no, ma in ufficio sì. Poi dipende sempre dall'ambiente, cioè non penso che il tacco a spillo possa incrementare, diciamo, sempre la femminilità, ma neanche fare colpo, diciamo, sul collega, eccetera, eccetera. Poi tutto dipende dalla persona. Lei da uomo preferisce la donna che indossa il tacco a spillo oppure la trova esagerata o addirittura vulgare? No, mi piace, mi piace il tacco. A spillo no, ma a slancia e... no, no, preferisco la scarpa col tacco, sicuramente. Quindi tra una donna che porta la ballerina o la scarpa bassa e una donna che invece ha il tacco alto, la colpisce di più la donna col tacco alto? Sì, sì, sicuramente più attraite. Si vedono in giro un sacco di scarpe veramente penose, specie in inverno. Il tacco a spillo lo gradisco sicuramente. E capita mai di vedere delle donne che portano il tacco alto e di pensare, questa donna non potrebbe portarlo? No. Tutte le donne meritano di avere un bel tacco? Sì, sì, diciamo la verità, sì. Grazie a tutti.